Musica Ciao Mucco Pallino, siamo all'interno del Museo della Frutta di Torino. In questo museo potrete scoprire delle storie molto interessanti. Potrete soprattutto scoprire la storia e la creazione di un personaggio insolito che è Francesco Garnia Valletti. Un piemontese che nel XIX secolo modellò migliaia e migliaia di frutti. Il museo mostra quasi 1200 tipi di frutti, diversi tra di loro, frutti che oggi purtroppo sono scomparsi. Il confettiere nell'Ottocento era un mestiere vero e proprio. Si adoperavano anche a realizzare delle vere e proprie architetture, sculture con lo zucchero che servivano per adornare le tavole. Il ceroplasta era colui che realizzava dei modelli e la ceroplastica era una vera e propria scienza al servizio della didattica per l'insegnamento delle scienze umane e botaniche presso le università. Il frutto che preferisco è l'uva, proprio perché malgrado si sia conservata meno bene degli altri frutti, però presenta delle caratteristiche di vero somiglianza incredibili. Basti pensare che dentro ciascun acino ha inserito i semini che si trovano negli acini reali. Li ha prima fatti seccare e poi li ha inseriti in ogni acino. Ciao muco pallino!